Io voglio ricordarlo, ho cominciato personalmente a fare politica da ragazzo, affricendo i manifesti delle vicine di Gaspari nella campagna elettorale del 1948. Io voglio ricordare che subito per questo anche la prima aggressione da parte dei militanti comunisti che mi diedero una bella scazzottata perché stavo attaccando appunto il manifesto della DC e non sarebbe stata l'ultima come tutti voi sapete bene. Per questo con voi mi sento davvero a casa e vi auguro di sottosso.